Più forti del male. A chiusura del Vangelo di Marco, Gesù ci invita ad andare nel mondo, a sfidare le difficoltà per saperle superare, sconfiggere il male là dove lo troviamo. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù apparve agli undici e disse loro, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. C'è una buona notizia che va detta a tutti. C'è una notizia che riguarda ogni creatura e il conoscerla fa tutta la differenza di questo mondo. C'è quindi una notizia che non si può conoscere arrivandoci da soli, ma occorre che qualcuno me la annunci. Questa buona notizia, questo Vangelo è la stessa persona di Gesù. Egli è colui che ti conduce dalla morte alla vita. È di Gesù che il tuo cuore ha bisogno per ritrovare se stesso. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Battezzato, cioè immerso nell'amore di Dio. Un amore gratuito che ci è donato in Gesù sulla croce. Lasciarsi battezzare significa lasciarsi avvolgere dall'amore di Dio. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove. Segni che ci ricordano che in noi c'è una bellezza che va fatta emergere. incontrare Cristo e diventare Suoi amici significa lasciare che Lui possa farci diventare simile a Lui. Tu sei fatto per il bene, per ciò che è bello e se hai sperimentato il male, sai quanto esso non ti appartenga, non faccia parte della tua natura profonda. Prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non reccherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il male viene sconfitto non per merito nostro, ma per i meriti di Gesù che agisce in noi. Donami che gli altri non vedano me, ma guardando a me pensino a te. Tu puoi molto più di quel che credi o ti hanno fatto pensare. Signore, che la mia vita possa essere anche in minima parte bella come quella che tu pensi e desideri per me.